buonasera a tutti benvenuti a questa nuova conferenza del ciclo i misteri della tradizione la prima dell'anno quindi tanti auguri di buon 2024 a tutti anzitutto stasera parleremo di poesia ma di un certo tipo di poesia una poesia che è in stretta associazione col nome di un dio greco ermes o ermete come viene italianizzato e che simpatibene non era il dio della poesia per gli antichi greci ma era il messaggero degli dèi in italia nel novecento nascerà un movimento di poeti chiamati ermetici con chiaro riferimento quindi a questa divinità greca e in italia siamo negli anni trenta il fascismo è ormai un regime consolidato e l'atmosfera sociale è cupa piena di presaggi di guerra e la libertà di pensiero e di espressione è osteggiato un gruppo di giovani poeti si riunisce attorno alla rivista letteraria il frontespizio e si chiamano salvatore quasimodo mario luzzi alfonso gatto leonardo sinisgalli pietro bigongiari e ancora anche altri la particolarità di questi poeti è l'uso frequente del simbolo dell'allegoria dell'analogia ecco per esprimere una visione della realtà che è lontana dalla visione comune ma anche contraria alla visione del regime culturale dell'epoca e quindi non può essere dichiarata alla luce del sole in pubblico perché alcuni contenuti sarebbero interpretati come dannosi per il fascismo e verrebbero condannati quindi questi poeti anche per quest'ultimo motivo si esprimono in un modo che risulta oscuro allusivo come messaggi in codice interpretabili solo da chi ne possiede la chiave di decodifica ma in realtà non è questo il motivo principale per cui la loro poesia risulta oscura i motivi sono altri nel 1936 il critico letterario francesco flora scrive un saggio dal titolo poesia ermetica che parlerà della poesia di questi poeti usando quindi questo termine lui che lo usa ermetico che nell'idea di flora avrebbe un significato oscuro incomprensibile cioè ermetico nel senso di chiuso quindi in senso dispregiativo ecco lui lo usa e c'è un motivo per cui lui usa questo termine in questo modo perché all'epoca il termine ermetico questo significato aveva ormai assunto che è lo stesso significato che noi oggi utilizziamo quando diciamo che chiudiamo ermeticamente qualcosa e quindi che siamo anche in senso figurato ermetici nel senso di di chiusi e quindi francesco flora con questo termine ermetico voleva bollare con un sigillo di fuoco in negativo la poesia di questi giovani poeti lui scrive in particolare ecco questa cosa che vi leggo per chiarirvi cosa voleva cosa volesse dire quindi le poesie chiuse oscure furono spesso un modo di rinnegare la civiltà che chiarezza ordine armonia sopra l'originaria confusione illudendosi di raffinatezza furono un ritorno alla poetica dello stato di natura alla sensualità meramente istintiva nello stadio analogico della sensazione ferina non già della coscienza umana ecco ascoltate bene queste parole che sono un esempio della nostra attuale sensibilità moderna una sensibilità che vede nello stato di natura nella sensualità ecco in altre parole nella nostra vera condizione di esseri appartenenti alla natura ci vede qualcosa di pauroso di spaventoso perché già in quegli anni negli anni 30 del secolo scorso l'uomo aveva ormai abbracciato da tempo l'artificialità la falsità nel credere di essere progredito di essere superiore agli altri animali alla natura e invece proprio quei poeti che flora disprezzava avvertirono molto bene il disastro provocato da questa concezione egoica dell'essere umano il disastro di quella caduta agli inferi che giuseppe ungaretti chiamerà sentimento del tempo ecco però vedete curiosamente francesco flora che col termine ermetici aveva questo intento di disprezzare i poeti i poeti simbolisti francesi come baudelaire rambò verlen valerie mallarmè che all'epoca erano famosi e di disprezzare anche i poeti italiani che li avevano seguiti quindi in realtà usa proprio il termine giusto ermetici per definire questi poeti che però non ha per niente il significato che flora intende ha un altro significato in realtà ermetismo ha il suo significato nell'ambito di una tradizione una tradizione culturale vecchia di millenni quella tradizione che io spesso in queste conferenze nei miei libri chiamo la tradizione con l'articolo determinativo e la maiuscola per definire una linea di pensiero che dalla notte dei tempi ha segnato la saggezza dell'intera umanità la tradizione di cui parlo è cultura fatta di simboli di immagini della mente formatesi fin dalle origini dello sviluppo antropologico di homo sapiens immagini che rappresentano proprio ciò che chiamiamo sapienza nel genere umano cioè la visione del mondo e dell'esistenza concepita da questa particolare specie animale a cui tutti apparteniamo homo sapiens e queste immagini rappresentano concetti come la vita la morte la madre il padre oppure la forza l'intelligenza il destino la responsabilità ecco carl gustav jung nel novecento chiamerà archetipi queste immagini ma queste immagini erano già contenute in tutte le espressioni artistiche del genere umano in tutte le grandi filosofie le grandi religioni in forma grafica possono ritrovarsi in quelle figure contenute nel mazzo da gioco dei tarocchi che è apparso in europa a partire dal secolo quindicesimo e un nome chiave in mezzo a queste immagini è quello proprio di ermete che la traduzione italiana del greco ermes ermes è il dio greco della sapienza e rappresenta la sapienza stessa e quindi in altri termini rappresenta la psiche umana l'anima con la sua capacità di conoscere conoscere vuol dire formarsi immagini nell'anima questo significa conoscere allora ermete nell'antico egitto era conosciuto con il nome di tot ed era il dio della sapienza e della parola della parola parlata e della parola scritta cioè dell'espressione umana dei pensieri ecco con tot noi vediamo già perfettamente formata l'idea di sapienza umana molto prima che si sviluppi la cultura greca di cui stavamo parlando 3000 anni prima di cristo con quegli antichissimi testi che sono i testi delle piramidi nella cultura occidentale tot in greco ermes è arrivato a noi passando per la cultura ellenistica cultura ellenistica che ha trasformato questo dio della sapienza in un grande saggio leggendario chiamato ermete trismegisto cioè ermete tre volte grandissimo e questo era anche l'appellativo di tot nell'antico egitto anche tot era tre volte grandissimo e questa figura di ermete trismegisto un po' umanizzata questo leggendario saggio che in realtà è solo un simbolo della saggezza stessa a questo ermete trismegisto si attribuisce la composizione di alcuni trattati sulla sapienza noti in occidente col nome collettivo di corpus ermeticum e che sono una sorta di summa della visione del mondo chiamata tradizione una copia degli scritti che compongono il corpus ermeticum che sono 17 redatti in greco e uno redatto in latino arrivarono in italia a firenze nel 1460 per volere di cosimo dei medici portati dal monaco leonardo da pistoia che aveva avuto questo incarico da cosimo dei medici e che li aveva ritrovati in macedonia e poi cosimo dei medici diede incarico al noto umanista marsilio ficino di tradurre in latino i testi greci che così vennero conosciuti di nuovo da una cultura occidentale che era stata dominata da secoli dalla visione cattolica romana del mondo diciamo del mondo come creazione di un dio creatore in realtà questa visione della tradizione è perfettamente contenuta anche nei vangeli cristiani visto che lo stesso personaggio letterario di cristo non è altro che lo stesso simbolo rappresentato da tot e da ermes cioè cosa rappresenta rappresenta il logos la voce dell'anima che è la voce del dio natura della tradizione cristo come ermes e l'angelos il messaggero del dio ma il cattolicesimo ecco aveva fatto perdere nei secoli il significato autentico dei vangeli cristiani un significato che nei primi secoli del cristianesimo era stato mantenuto però dall'ognosticismo una corrente del cristianesimo che venne combattuta e distrutta dalla chiesa cattolica cioè da quello che sarebbe diventato il cristianesimo ufficiale quindi ermete torna in italia nel quindicesimo secolo per fare di nuovo comprendere il senso autentico della tradizione che poi anche il senso autentico del messaggio dei vangeli ma è anche il senso autentico della visione del buddha della visione induista della visione taoista la stessa visione che era stata proposta da grandi filosofi greci come pitagora platone ed eraclito ne ho parlato diffusamente in tante conferenze ecco i poeti che flora chiama ermetici ripropongono nel novecento questa visione e centrali nella poesia ermetica sono i temi della nostalgia del ricordo della terra d'origine dell'infanzia del sentimento della solitudine temi che vengono trattati con delle sfumature oniriche da sogno in forma anche letterariamente alta come proprio se si stesse parlando di un passato nostalgicamente rimpianto ma anche di un futuro percepito in maniera angosciosa come se tragici eventi fossero sul punto di abbattersi la seconda guerra mondiale che sta appunto per scoppiare apparirà come la conferma di questo sentimento del tempo e in questo diciamo pensiero non possiamo non correre a carl gustav Jung che nel 1913 durante un viaggio in treno ebbe una visione in cui l'europa gli appariva devastata da una spaventosa inondazione e successivamente ebbe altre visioni del genere in cui vedeva sangue scorrere a fiumi ecco in europa anche negli anni antecedenti alla prima guerra mondiale l'immaginario apocalittico era una specie di insegna ecco degli ambienti culturali ed artistici anche vassili kandinsky pronostrò una catastrofe universale incombente così anche ser Arthur Conan Doyle ecco anche lo scoppio della prima guerra mondiale per Jung sembrò la conferma storica di questo sentimento del tempo qualcosa che Jung chiamerà poi inconscio collettivo l'individuo sente ciò che è presente non solo nella sua anima individuale ma nell'anima dell'intera specie a cui appartiene e quindi mentre le avanguardie moderniste del primo novecento come il futurismo di Filippo Tommaso Marinetti avevano applaudito all'avvento di un ventesimo secolo segnato dal vento della modernità della velocità parlavano di bruciare i musei e le biblioteche in modo da non avere più rapporti con il passato per concentrarsi solo su questo dinamico presente c'era questa illusione quindi delle catene di montaggio che abbattevano i tempi di produzione l'illusione delle strade che si illuminavano di luce elettriche venivano percorse da automobili in costante aumento mentre c'era questa corsa alla conquista della natura che imperversava in italia segnata dalle marcette del fascismo che lavorava alla giovinezza gli ermetici i poeti ermetici all'opposto percepivano l'angoscia per il futuro un'angoscia che che si realizza in un costante senso dell'attesa che rende l'animo del poeta inquieto a questo tema si lega la poetica dell'assenza come l'allontanamento che il poeta ha dalla realtà quotidiana dalla realtà storico politica quindi un rifiuto implicito della cultura del tempo carlo bo un grande critico letterario fu l'autore del testo che è considerato il manifesto dell'ermetismo un testo che si intitola letteratura come vita che fu scritto nel 1938 proprio sulla rivista il frontespizio in questo testo carlo bo rifiuta l'idea di letteratura intesa come attività rivolta all'esterno dell'anima per descrivere costumi epoche storiche no la rifiuta questa visione per proporre una letteratura intesa come ricerca della verità letteratura come modo di vivere come essenza dell'uomo che attraverso la letteratura si esprime in qualche modo possiamo riandare col pensiero a krishnamurti alle ultime conferenze che ho fatto sul pensiero appunto di krishnamurti che propone la ricerca della verità piuttosto che l'immersione pura e semplice nella realtà quotidiana e questo era proprio il simbolo di tot ermes il dio parola il logos cioè la letteratura le lettere come essenza di ciò che l'uomo è di ciò che l'essere espressione la letteratura è un prezioso strumento di conoscenza di sé non è qualcosa che dovrebbe essere svilito riducendone ecco la funzione alla semplice descrizione all'analisi di qualche tematica la politica la società ecco la letteratura nella visione ermetica è una vera e propria missione di amore che non permette distrazioni che non permette pause non è un mestiere francesco flora aveva parlato di poesia ermetica in senso negativo perché non gli piaceva che questi poeti avessero una concezione della poesia antica mistica naturalistica cosa vuol dire mistica ho cercato di spiegarlo nella scorsa conferenza sui misteri eleusini parlando di iniziazione di iniziati iniziato in greco si dice miustes dal greco mio che vuol dire mi chiudo qui ritorniamo all'ermetismo ma mi chiudo in che senso nel senso mi raccolgo in me non nel senso mi chiudo agli altri no mi raccolgo in me perché la conoscenza è dentro di me devo solo ricordarmela come diceva platone me la sono dimenticata venendo al mondo perché l'essere di cui parla la tradizione il dio natura che i nostri antichi antenati percepivano come unica realtà vivente questo dio era diventato individuo e diventando individuo era come se fosse uscito da sé si fosse alienato nell'uomo che altro non è che il dio natura in forma di individuo e da miustes viene il termine misterion mistero che non vuol dire quindi nascosto o segreto o oscuro come pensava flora vuol dire semplicemente comprensibile a chi è stato iniziato a guardarsi dentro a fondo ecco che nel movimento dei poeti ermetici la tradizione torna a rivivere nel novecento nella poesia da questo punto di vista il più autentico poeta ermetico è stato mario luzzi che nel 1935 aveva pubblicato la sua prima raccolta di poesie col titolo la barca la barca che è un allegoria del viaggio come lo è il tarocco del matto è un allegoria di quel desiderio che abbiamo quella volontà di potenza che porta la psiche umana in viaggio la barca di luzzi è come la barca di ra ra il dio sole che al tramonto sulla sua barca si immerge nel mondo della notte il mondo che gli egizi chiamavano il duat quell'inconscio in cui l'uomo incontra se stesso come dante incontra se stesso nella selva oscura e ne parla l'uzzi l'uzzi stesso che che dice dice certamente c'è qualcosa che si è avviato qualcosa che prende il largo ed è l'esperienza di adolescente giovanissimo autore la barca era per me un oggetto fascinoso di per sé che allora vedevo spesso sull'arno c'erano le barche dei renaioli e avevano una densità che le barche sportive non hanno questo è un riferimento poi c'è la metafora spontaneamente associata e prevalente sì il mare dell'essere è un mare più pensato che visto e goduto con i sensi per cui si può presumere che ci sia questo senso del destino come viaggio o del viaggio come destino ed è esperienza totale questa idea dell'esperienza come viaggio mi sembra sia rimasta iscritta poi sempre nella mia poesia un viaggio che ha presente la sorgente non meno che la foce la barca dice dalle foci alle sorgenti per capire il senso di dono e offerta della sorgente nulla è più importante che il risalirvi con l'esperienza del viaggio vedete luz si parla della sua poesia della sua poesia come come una barca con una barca che intende fare risalire l'anima dalla foce alla sorgente la poesia è viaggio dentro di sé lo stesso viaggio dell'iniziato ad eleusi e da questo punto di vista l'ermetismo verrà anticipato da un grandissimo poeta che fu giuseppe ungaretti proprio nella sua raccolta sentimento del tempo possiamo leggere in questa raccolta di ungaretti questa meravigliosa poesia intitolata l'isola a una proda ove sera era perenne di anziane selve assorte scese e si inoltrò e lo richiamò rumore di penne che era si sciolto dallo stridulo batticuore dell'acqua torrida e una larva languiva e rifioriva vide ritornato a salire vide che era una ninfa e dormiva ritta abbracciata un olmo in seda simulacro a fiamma vera errando giunse a un prato ove l'ombra negli occhi si addensava delle vergini come sera a pie degli ulivi distillavano i rami una pioggia pigra di dardi qua pecore s'erano appisolate sotto il liscio tepore altre brucavano la coltre luminosa le mani del pastore erano un vetro levigato da fiocca febbre questa poesia di giuseppe ungaretti anticipa certamente i temi dell'ermetismo qui vediamo l'arrivo di un misterioso personaggio a un'isola che è un simbolo un simbolo fantastico indeterminato nel tempo e nello spazio c'è oscurità c'è luce silenzio ci sono fremiti sensazioni che accolgono questo misterioso visitatore che in realtà non è che il poeta in un'atmosfera languida ed evanescente quindi quello descritto è un luogo dove ci si isola un luogo solitario appartato un luogo di pace di silenzio selve assorte pioggia pigra dove il poeta incontra che cosa incontra quelle che sono le immagini le figurazioni simboliche dei suoi sentimenti e dei suoi desideri più profondi il pastore il poeta diventa pastore che con le sue fragili mani di vetro vedete quest'altra immagine crea le immagini poetiche che sono le immagini vere quelle che il poeta crea in contrapposizione con le immagini false che stanno nel luogo da dove il poeta è fuggito dal luogo che sta oltre il mare sta lontano dall'isola perché finalmente il poeta è tornato là dove c'è il suo cuore dove c'è la sua anima e vedete che quindi questa poesia di ungaretti l'isola presenta numerosi simboli della tradizione letteraria classica le ninfe il pastore il paesaggio arcadico ma anche presenta le caratteristiche della poesie della poesia simbolista cioè il fatto di usare degli elementi della natura per esempio il frullo d'ali rivelatore di una presenza l'analogia il batticuore dell'acqua la sinestesia liscio tepore ecco ungaretti non è propriamente un ermetico nel senso in cui lo furono luzzi o gatto bisogna stare attenti alle classificazioni perché ciò che noi chiamiamo ermetismo letterario è solo una convenzione non è un blocco monolitico e i dibattiti tra i critici che si struggono per determinare se ungaretti fosse o non fosse un ermetico a me sembrano onestamente di una sterilità assoluta quello che mi sembra chiaro che ungaretti fu tra i primi insieme a montale ad avvertire ecco prepotente questo sentimento di un tempo falsato di un tempo illusorio quello che invece i futuristi sentivano un tempo di grandi cose che stavano per arrivare per ungaretti invece un tempo da cui occorre staccarsi per recuperare una essenza quella che sta nell'isola quella che sta nel profondo di un'anima che non è solo ego ma soprattutto in natura e inconscio collettivo quindi ungaretti e montale sono stati ermetici in questo senso sicuramente non nel senso che il loro stile e il modo di affrontare questi tempi sia stato lo stesso di altri poeti come luzzi gatto e quasimodo e tutti gli altri che ruotavano attorno alla rivista il frontespizio che usavano stili diversi da quello di ungaretti e che avevano anche un modo diverso di intendere ecco l'intuizione l'espressione poetica quindi si tratta di classificazione noi abbiamo una lettera molto interessante di luzzi che manda al critico letterario giacinto spagnoletti che parlava di classificazioni convenzionali e prive di senso la ritengo molto interessante proprio perché noi oggi viviamo nel mondo delle classificazioni delle categorie pensiamo che si possa ridurre tutto a categorie e luzzi sottolineava che quello che i critici chiamavano ermetismo altro non è che l'insieme di tutte le ramificazioni della poesia del novecento del simbolismo della poesia che usa i simboli gran parte della poesia del novecento rientra in questa poesia simbolista ma sono ramificazioni che portano tutte a stili diversi a modi di poetari diversi per cui diceva luzzi che senso ha mettere in una stessa categoria quasimodo e montale oppure montale e ungaretti che rappresentano strade diverse ecco quindi in questo discorso che invece voglio fare stasera che probabilmente è molto lontano dai discorsi che si fanno a scuola che abbiamo sentito a scuola quando si parla di ermetismo e ci raccontano che i tre grandi poeti dell'ermetismo sono questi tre signori qui montale quasimodo e ungaretti in questa mia trattazione dicevo io preferisco chiamare ermetica tutta quella poesia moderna novecentesca che come diceva luzzi presume il simbolismo e quindi io vorrei proprio richiamare a questo riguardo le parole di luzzi che dice la poesia è da vedere incarnata nel mondo della natura nei fenomeni nella vita frammentaria per me la poesia è scritta nelle cose e il poeta deve solamente saperla leggere per me il discorso che non può avere la sua identificazione con il visibile e il sensibile non ha validità poetica non è poesia il discorso poetico deve partire da qualcosa di concreto e tornare al concreto addirittura identificarvisi si parla di simbolismo nella poesia ma per me i simboli non sono da ritrovare in cose particolari in aspetti selezionati e privilegiati diciamo così del mondo ma in tutta la realtà umana e cosmica in cui è immerso l'uomo questo discorso di luzzi io lo trovo veramente chiarissimo esemplificativo di ciò che è la poesia ermetica il senso della poesia pura considerare tutta la realtà umana costituita da simboli in questo richiama Baudelaire che è stato il padre della poesia dei simboli ricordiamoci la celebre poesia corrispondenze di Baudelaire nei fiori del male la natura è un tempio dove colonne vive lasciano a volte uscire confuse parole ecco c'è evidentemente un riferimento a una natura che parla perché questa natura è dio il dio essere ed è ovvio che c'è differenza tra luzzi e gli altri ermetici propriamente detti per esempio montale montale per esempio usava spesso una tecnica nelle sue poesie in cui determinati oggetti richiamano nell'animo del poeta e del lettore delle sensazioni questa tecnica veniva chiamata il correlativo oggettivo cioè l'oggetto che si correla a un significato emozionale che l'oggetto richiama ecco il luzzi e negli ermetici differentemente da montale queste correlazioni sono estese all'intera natura tutta la natura è animata tutto è vivo ma vedete al di là di queste differenze che ci fanno capire che è inutile andare a parlare dell'ermetismo come un insieme di poeti ben determinati al di là di ciò che dice lo stesso luzzi che si sente mortificato comprensibilmente ad essere ridotto a un elemento di una categoria pre compilata da critici letterali e al di là di tutto questo è largamente evidente secondo me che tanto montale quanto ungaretti quanto i poeti che vengono chiamati propriamente ermetici condividono una visione mistica della poesia nel senso di ispirata dal simbolismo e condividono una visione naturalistica della realtà in cui si aggirano presenze animate e questo certamente è vero per per salvatore quasimodo che può essere definito come l'esponente più rappresentativo della tendenza ermetica in cui si sente di più la spinta a recuperare forme poetiche arcaiche a proiettarsi nello spirito stesso dei poeti antichi in cui la sapienza ermete era la voce della natura si prenda come esempio per esempio la lirica vento a tindari che fu composta mentre quasimodo viveva a reggio calabria negli anni venti tindari mite ti so fra larghi colli pensile sull'acque delle isole dolci del dio oggi massali e tichini in cuore salgo vertici aeree precipizi assorto al vento dei pini e la brigata che lieve mi accompagna s'allontana nell'aria onda di suoni e amore e tu mi prendi da cui male mi trassi e paure d'ombre di silenzi rifugi di dolcezze un tempo assiduo e morte d'anima a te ignota e la terra ove ogni giorno affondo e segrete sillabe nutro altra luce ti sfoglia sopra i vetri nella veste notturna e gioia non mia riposa sul tuo grembo aspro e l'esilio e la ricerca che chiudevo in te d'armonia oggi si muta in ansia precoce di morire e ogni amore e schermo alla tristezza tacito passo al buio dove mi hai posto amaro pane a rompere tindari serena torna soave amico mi desta che mi sporga nel cielo da una rupe e io fingo timore a chi non sa che vento profondo ma cercato come non sentire risuonare in questi versi la voce dei poeti lirici greci dei quali quasimodo fu un importante traduttore le voci di ibico di safo dal ceo di alcmani quelle voci in cui la poesia parla con la voce del dio dell'essere poesia che quindi è logos spirito parlante che nel vento nei pini nell'aria e nella terra che fa corrispondere la natura con l'anima umana come diceva baudelaire corrispondere in qualcosa che è davvero inconscio collettivo lunghiano leggiamo quest'altra poesia lo specchio ed ecco sul tronco si rompono le gemme un verde più nuovo dell'erba che il cuore riposa il tronco pareva già morto piegato sul vuotro e tutto mi sa di miracolo e sono quell'acqua di nube che oggi rispecchia nei fossi più azzurro il suo pezzo di cielo quel verde che spacca la scorza che pure stanotte non c'era ecco questo è uno dei più perfetti dilli del quasimodo giovane uno di quei componimenti vedete che con questi versi concisi chiusi nella perfezione della parola fa comprendere anche la critica che flora fa alla poesia ermetica perché per flora questo poetare non lascia spazio al discorso razionale al discorso causale perché questa è poesia fatta di intuizioni che ognuno comprende a modo suo il che per flora equivale a dire che è incomprensibile perché per lui è comprensibile solo ciò che ha lo stesso significato per tutti eppure mentre è evidente credo per noi l'ermetismo di quasimodo ed era evidente anche per flora Edoardo Sanguinetti un altro grande poeta dell'epoca disse che quasimodo non poteva essere considerato ermetico perché gli ermetici hanno come obiettivo l'essenzialità l'assenza di effetti superflui ornamentali mentre quasimodo ha un linguaggio ricercato come abbiamo visto e ha il mondo classico come riferimento vedete alla fine quanto sia difficile intrappolare dentro una categoria un poeta perché se la vediamo come sanguinetti quasimodo sarebbe meno ermetico di Ungaretti perché Ungaretti avrebbe uno stile più scarno più essenziale io vorrei stasera invece proporvi l'idea che esiste una poesia ermetica che non ha a che fare con lo stile ma con gli obiettivi che vuole perseguire e che si possono raggiungere con stili insomma anche differenti tra loro per esempio quasimodo propone lo spirito e i temi dell'ermetismo che sono temi esistenziali li propone con uno stile bello alto con un lessico classicheggiante e forbito uno stile che poi fu chiamato dai critici il fuoco della classicità quando gli conferirono il Nobel nel 1958 quindi quasimodo si distacca da Montale e anche da Ungaretti per la sua caratteristica di essere il poeta dell'isola anche Ungaretti aveva parlato di un'isola ma l'isola di Quasimodo è proprio la sua terra di nascita la Sicilia dove Quasimodo che poi in realtà aveva per cognome Quasimodo perché lui ha voluto che si cambiasse l'accento del cognome perché non gli piaceva la parola piana e l'ha fatta diventare srucciola Quasimodo nacque a Modica nel 1901 e la Sicilia permea tutta la sua opera soprattutto l'opera iniziale e centrale di questo poeta per Quasimodo la Sicilia è la terra ideale quella che si risolve ecco e si dissolve nel ricordo languido malinconico di una felicità avuta e perduta Quasimodo era figlio di un capostazione che per il suo lavoro era stato assegnato a Modica però era originario di Roccalumera in provincia di Messina e Quasimodo visse tutta l'infanzia e la giovinezza a Roccalumera perché il padre ci ritornò dopo il periodo di Modica visse quel terribile evento del terremoto di Messina del 1908 dopo questo terremoto il padre fu incaricato della riorganizzazione del traffico della stazione di Messina la famiglia Quasimodo visse quel periodo in un carro merci parcheggiato su un binario morto e poi lì a Messina Quasimodo si diplomò geometra quindi non fece degli studi classici Quasimodo e già maturava però i primi interessi letterali li maturò a Messina pubblicò le prime poesie poi si trasferì a Roma per frequentare l'università anche qui non un'università umanistica ma matematica e fisica studiava poi per la sua condizione economica piuttosto misera dovette mettersi a lavorare con quello che trovava lasciò l'università lui chiamò quel periodo gli anni tristi della giovinezza fino a quando poi nel 1926 venne assunto dal ministero dei lavori pubblici e fu assegnato come geometra al genio civile di Reggio Calabria e quindi io ritengo molto interessante notare come Quasimodo non abbia fatto studi classici esattamente come Montale che si diplomò ragioniere invece questi poeti furono totalmente autodidatti nella loro scoperta della poesia non come esercizio ecco stilistico ma certamente come percorso dentro l'anima a Reggio Quasimodo scrisse la poesia che vi ho letto Vento a Tindari e iniziò una carriera di successo trasferendosi dopo un po' a Firenze perché sua sorella Rosa aveva sposato lo scrittore Elio Vittorini uno scrittore molto famoso in quell'epoca e fu Vittorini che invitò Quasimodo a Firenze e lo introdusse in questo ambiente letterario molto vivace in quell'epoca Firenze era il cuore della cultura italiana a Firenze Quasimodo incontrò Montale partecipò alla rivista Solaria e soprattutto pubblicò la prima sua raccolta di poesie Acque e Terre e poi non si fermò a Firenze perché venne trasferito all'inizio degli anni trenta al Genio Civile di Genova a Genova conobbe Camillo Sbarbaro e pubblicò la sua seconda raccolta di poesie Obbo e Sommerso ecco quindi girò girò molto Quasimodo andò poi a Cagliari arrivò a Milano la sua ultima tappa nel trentaquattro ecco e fu un momento fondamentale della sua vita perché nel trentotto quando in Europa Hitler inizia ad annettere l'Austria e si sentono i venti della guerra Quasimodo abbandona il Genio Civile e inizia a diventare poeta a tempo pieno perché diventa segretario editoriale di Cesare Zavattini e fu diciamo fu all'epoca quindi che Quasimodo diventa professore di letteratura presso un conservatorio di musica dove rimarrà fino alla fine degli anni sessanta e si conclude un vero e proprio percorso per lui lungo l'Italia Sicilia Roma Reggio Calabria Firenze Genova Cagliari Milano Milano dove vivrà per tutto il resto della sua vita nel suo appartamento di corso Garibaldi e a Milano Quasimodo vive la sua condizione esistenziale di isolano esiliato esiliato da quella che sente la sua vera terra la sua vera patria la Sicilia dice io non so che questo cuore della mia razza così chiama la Sicilia ed è dal punto di vista proprio della produzione poetica il tema dell'esilio della nostalgia ecco della perdita di questa terra edenica è propenderante proprio fondamentale nella poesia di Quasimodo perché la Sicilia non è solo quella fisica quella vera l'esilio non è solo la condizione pratica di Quasimodo la Sicilia è allegoria è simbolo di una condizione universale dell'uomo che sente di avere dentro qualcosa che da bambino ha perduto l'innocenza la spensieratezza l'unione con la natura e quindi l'esilio è una condizione esistenziale dell'adulto che poi in questo esilio in questa condizione esistenziale vivrà tutta la vita ecco perché Quasimodo soprattutto all'inizio propone una poesia di ricordo e di memoria di minto una poesia che parla di lui stesso quindi è intima a tutti gli effetti la poesia di Quasimodo altro non è che lirismo greco è poesia lirica cos'è la poesia lirica qui devo fare per forza una breve digressione sulla poesia lirica altrimenti di Quasimodo e dell'intero ermetismo non capiremo nulla perché tutto l'ermetismo è lirico dobbiamo parlare della poesia lirica greca e per iniziare qualunque discorso sulla poesia lirica greca occorre evocare un nome un nome che da oltre due millenni e mezzo evoca l'incanto che solo l'arte può produrre il nome di Orfeo secondo la tradizione Orfeo fu il primo poeta lirico anche secondo molti studiosi si sarebbe trattato di un poeta realmente vissuto molto prima del periodo classico secondo Mircea Eliade visse prima di Omero anche se il suo nome nelle fonti è attestato solo a partire dal VI secolo avanti Cristo e la prima menzione di Orfeo fu fatta proprio qui nella mia città nella città di Reggio Calabria perché fu il poeta regino ibbico a fare per primo il nome di Orfeo in un frammento che c'è pervenuto ma è in dubbio che l'Orfeo di cui ci tramanda la tradizione è un personaggio che vive nel mito perché la tradizione non si preoccupa soltanto di tramandare eventi accaduti nello spazio e nel tempo ma di trasmettere significati quindi mito mutos significa per l'appunto racconto e il racconto ha molto più a che fare con la poesia che con la storia e quindi ecco perché noi stasera parlando di poesia stiamo parlando di mito e sul mito è costruita tutta la poesia greca antica di Orfeo si diceva che con la sua poesia avesse la capacità di incantare persino gli animali e di animare gli oggetti inanimati e si diceva che fosse anche uno sciamano cioè un uomo capace di fungere da tramite con la comunità e la dimensione dell'oltreumano la dimensione della morte che era molto importante per tutti i popoli antichi Orfeo era un personaggio strettamente legato al custo di Dioniso il dio greco che più di tutti rappresenta il legame che gli elleni avevano con l'antichità precedente preellenica con il mondo arcaico questo è molto importante capirlo per capire l'importanza della poesia lirica per i greci Dioniso è il dio che reca dentro la sua immagine il ricordo di questa cultura naturalistica nel mito Dioniso è il dio del vino cioè dell'ebbrezza che porta all'estasi viaggio accompagnato dai satiri questi uomini dall'aspetto caprino che danzavano al suono del flauto accompagnato dalle menadi donne invasate dall'energia vitale di Dioniso che urlavano si dimenavano in danze frenetiche e nel mito Dioniso è un dio che viene ucciso anticamente aveva il nome di Zagreo che verrà fatto a pezzi dai titani inviati da Hera poi Zeus ne recupera il cuore e lo fa mangiare a semele che lo partorisce e gli dà una seconda vita da qui deriva il nome Dioniso cioè nato due volte morto e risorto e in tutte le parti della Grecia si celebravano ceremonie sacre chiamate misteri dionisiaci in cui le protagoniste principali erano donne che recitavano la parte delle menadi che si chiamavano baccanti e che indossavano maschere terrificanti avevano lo scopo di impersonare il furore vitale del dio in queste cerimonie si sacrificavano animali generalmente agnelli e capretti facendone a brandelli le carni con le mani nude mangiandole crude tutto questo allo scopo di rappresentare il mistero della natura che si nutre della morte per generare la vita anche le foglie di vite che ornavano i capelli delle baccanti ricordavano non solo il vino sangue mistico che inibriando dalla vita ma anche l'unità con la natura ricordate voi siete i tralci io sono la vita scriveranno gli autori dei vangeli cristiani che anche loro ripropongono il mito di dioniso per creare il simbolo di cristo e da questi riti da quelle maschere nascerà la tragedia greca in cui c'è il canto corale la collettività che canta il verso chiamato di tirambo che sarà poi uno dei principali generi della poesia lirica greca che c'entra dioniso con orfeo questo punto è molto importante riguarda anche il rapporto che esisteva tra dioniso e un altro simbolo fondamentale dei greci che è il dio apollo perché quando parliamo di orfeo ci sono molti miti che lo riguardano ma quello principale narra della sua storia con euridice la storia d'amore che ha con euridice una bellissima ninfa che diventa sua sposa purtroppo un giorno euridice per sfuggire dalle attenzioni oscene di aristeo un figlio di apollo mise il piede su un serpente che la morse euridice morì orfeo disperato decise di scendere nel mondo dei morti nell'ade governato dal dio ades e da sua moglie persephone e quindi dopo tante peripezie dopo avere incantato caronte il traghettatore dei morti dopo avere ammansito il cane cerbero il guardiano degli inferi sempre usando questo suono melodioso della sua lira orfeo arriva davanti al re e alla regina degli inferi e canta canta il suo dolore per euridice perduta lo canta con tanta dolcezza che persephone si commuove e gli concede di riportare la sua sposa nel mondo dei vivi a una condizione però che è quella che euridice avrebbe dovuto camminare dietro ad orfeo fino a quando non fossero stati fuori dagli inferi orfeo non si sarebbe mai dovuto voltare per guardarla e invece orfeo timoroso che la sua sposa non lo stesse seguendo si voltò prima di uscire dagli inferi e così la perse per sempre accecato poi dal dolore tornato sulla terra orfeo rinuncia al culto di dioniso cioè rifiuta l'amore per sempre anche per fedeltà alla sua sposa e vedete per questa sua rinuncia le menadi le sacerdotesse di dioniso infuriate perché l'amore non si rifiuta lo uccidono sbranandolo la sua testa la testa di orfeo fu salvata dalle ninfe e fu affidata alle muse trasportata dalla corrente venne sepolta all'esbo in cui continua a cantare in modo sempre melodioso e incantevole anche da morto quindi è chiaro che orfeo rappresenta in sé ecco una continuità con dioniso una riproposizione del mito di dioniso però lui è figlio di apollo orfeo ed è apollo che gli regala la lira ricevuta da chi ricevuta da ermes come dire che i greci vedete tutto simbolico rappresentavano con orfeo l'elemento capace di guidare gli impulsi primordiali dell'anima gli impulsi dionisiaci evitando che questi impulsi squilibrino l'uomo verso gli istinti irrazionali e quindi orfeo eredita da ermes attraverso il padre apollo l'elemento contenitivo che contiene che limita che indirizza l'anima umana e questo è ciò che rappresenta la lira non tanto la dominazione della ragione sulla follia ma l'equilibrio magico di ragione e di follia ecco quando poi parliamo di lirici greci facciamo riferimento a tutto un insieme di poeti che poi operarono nel settimo e nel sesto secolo prima di cristo e che riscossero una grande fama in realtà chiamarli poeti lirici fu il mondo ellenistico l'aggettivo lirico deriva proprio da questo strumento a corde la lira che spesso era usata per accompagnare le esibizioni ecco di questi poeti uno strumento musicale appunto a corde con una cassa armonica che i greci costruivano usando il guscio di una tartaruga e a cui sono attaccati due bracci uniti da una traversa con delle corde che permettono appunto di produrre il suono e secondo la mitologia greca la lira fu inventata da Hermes si narra che Hermes trovò un giorno all'interno di una grotta una tartaruga da questa tartaruga dopo averla uccisa prese il guscio il carapace e tese all'interno di questo guscio sette corde di budello di pecora costruendo la prima lira e Hermes quindi la sapienza vedete cos'è la sapienza la lira e la sapienza viene regalata poi ad Apollo e da Apollo ad Orfeo quindi questo racconto mitico esprime in forma poetica un significato ben preciso la lira era associata ad Hermes che è dio della parola del logos la sapienza come logos cioè rappresenta Hermes quella parte dell'anima umana che lega l'umano al divino l'intelletto che contiene da un limite all'esuberanza vitale cioè a quella forza attiva rappresentata da Dioniso i greci sapevano bene che l'anima umana è guidata da due forze quelle che Platone rappresenta nel mito dei cavalli e della biga no la biga trainata da due cavalli uno bianco e uno nero in cui la biga stessa rappresenta l'anima mentre il cavallo nero è la forza attiva vitale dionisiaca che in poesia corrisponde all'estasi alle pulsioni che esplodono come negli eroi omerici e quindi corrisponde alla poesia epica e l'altra forza è quella che contiene che ordina il caos che guida gli impulsi tramite la luce della ragione è quella a cui conduce Hermes ed è rappresentata da Apollo a cui appunto Hermes regala la lira ecco quindi per i greci esisteva una poesia che era destinata a declamare ad esaltare che era la poesia epica in cui emergeva lo spirito che Nice in tempi moderni chiamerà Dionisiaco e poi la poesia lirica in cui gli istinti sono guidati dalla luce dell'intelletto di quell'Apollo che però non sopprime Dionis ma piuttosto lo guida i taoisti chiameranno Yang lo spirito dionisiaco e Yin quello Apollineo il Tao è l'equilibrio tra questi due spiriti della psiche in tempi moderni Carl Jung chiamerà inconscio lo spirito dionisiaco anzi lo chiamerà inconscio collettivo perché è quella parte della psiche che lega l'uomo alla specie a cui appartiene agli antenati agli archetipi che infatti vengono celebrati dalla poesia epica nelle gesta degli eroi mentre lo spirito Apollineo verrà chiamato dalla psicanalisi molto semplicemente ego la coscienza la poesia lirica è la poesia dell'ego che cerca l'equilibrio con l'inconscio quindi è la poesia dell'uomo vedete che prende coscienza di essere un individuo e non soltanto un funzionale della specie ma quindi attenzione non parliamo quindi dell'ego moderno la poesia lirica non rappresenta l'ego moderno possiamo invece dire che parliamo di qualcosa di lontanissimo dall'ego moderno noi oggi con la parola individuo vedete intendiamo qualcuno che si sente distinto e separato dalla collettività qualcuno che sente emergere con prepotenza le proprie aspirazioni le proprie ambizioni in aperta contrapposizione con gli altri gli altri che vengono invece ecco percepiti come ostacoli alla propria realizzazione personale per gli antichi greci quest'idea di individuo era sconosciuta già in epoca omerica l'uomo poteva essere ambizioso prepotente quanto voleva ma la sua sfera esistenziale era sempre definita dalla comunità era la comunità che dava un'identità all'individuo senza la comunità che gliela riconosceva Achille Agamem non è Ettore non avrebbero avuto neppure un nome quindi l'epoca in cui nasce la poesia lirica è un momento in cui l'uomo greco in qualche modo evolve in passato c'era l'ideale omerico della poesia epica l'ideale eroico in cui l'individuo lasciava esplodere la sua forza vitale in maniera brutale in cui l'ego era ancora poco distinto dall'inconscio la natura primordiale fluiva senza contenimento a partire dal settimo secolo avanti Cristo inizia una nuova dimensione umana nei greci più quotidiana in cui emergono con chiarezza i limiti e le fragilità dell'uomo stesso l'ego è proprio questa dimensione che può trovare il suo equilibrio solo nella comunità con gli altri individui nel culto delle tradizioni degli antenati una dimensione quindi associativa che nell'antica Grecia del settimo secolo avanti Cristo si concretizza nella creazione di circoli che sono che erano molto diverse dalle nostre associazioni culturali dai nostri gruppi dai nostri club erano piccole comunità nella comunità in cui emergevano questo aspetto della comunanza tra pari e della formazione culturale e poiché all'epoca si aveva precisa coscienza dell'importanza di distinguere culturalmente la sfera del maschile e del femminile perché rappresentavano appunto simbolicamente lo yang il maschile e lo yin il femminile questi gruppi erano di soli maschi in questo caso si parlava di etairia o di sole donne e in questo caso si parlava di tiaso e quindi dentro una etairia gli uomini venivano educati a prendere coscienza della propria individualità culturale del proprio ruolo sociale nel tiaso la stessa cosa avveniva per le donne e gli individui più giovani apprendevano dai più grandi sempre coscienti che si era tutti alla pari che si era membri della stessa comunità umana e quindi in questi li possiamo chiamare grumi ecco di tessuto sociale si formavano valori che si trasmettevano per via tradizionale l'amicizia l'amore filiale l'amore coniugale il coraggio la lealtà la dignità l'onore il rispetto la moderazione questa avveniva in queste comunità greche dove ecco noi vediamo le figure dei primi poeti lirici per esempio ascoltiamo l'invito che saffo la grande proietessa che fu tra le voci più alte della lirica greca saffo rivolge invita chi l'ascolta a visitare un tiaso cioè uno di quei consessi di fanciulle in cui la stessa saffo nel ruolo di maestra di sacerdotessa e anche di amante istruiva le fanciulle perché fossero pronte al matrimonio questa poesia è tradotta così proprio da Salvatore Quasimodo venite al tempio sacro delle vergini dove più grato il bosco e sulle aree fuma l'incenso qui fresca l'acqua mormora tra i rami dei meli il luogo è all'ombra di roseti dallo stormire delle foglie scende profonda quiete qui il prato dove emerigioni cavalli è tutto fiori della primavera e gli aneti vi odorano soavi è qui con impeto dominatrice versa a afrodite nelle tazze d'oro chiaro vino celeste e insieme gioia ecco la livica è tutta un fiorire di primavera la poetessa qui ricrea le suggestioni di un giardino mediterraneo con le rose i fiori dei meli con lo scorrere di un ruscello con la dolcezza degli odori dei sentori della nuova stagione che arriva e le fanciulle qui sono educate all'amore per cui questo è un tempio sacro ad afrodite ma guardate qui qual è l'idea del tempio del sacro per i greci un giardino in cui si viene iniziati al bello al canto all'estetica all'eleganza al portamento al sesso e che lontananza esiste col nostro attuale senso del sacro no che differenza con la nostra idea di scuola che mira solo a trasmettere competenze saperi qui vedete la paideia greca l'educazione si fonde con la poesia perché poiesis è espressione espressione dell'anima perciò nella lirica greca la poesia non può essere altro che melichè poiesis cioè parole cantate educarsi significa imparare ad esprimere la propria anima cioè imparare a cantare quindi la divinità di riferimento non poteva che essere afrodite a cui poi appunto Saffo dedica ecco dedica un intero un intero inno allora vedete Quasimodo tradusse tutti i più importanti lirici greci in un'edizione famosa pubblicata da Corrente nel 1940 di queste poesie e è vero che il primo Quasimodo soprattutto fu poeta lirico e anche nella sua seconda produzione è vero che poi lui sarà anche poeta civile poeta etico più agganciata al quotidiano e al sociale e quindi magari non più perfettamente intermetico perché l'ermetico non vive nella società l'ermetico vive nella dimensione dell'esistenzialità metafisica al di là dello spazio e del tempo vive nel mito il poeta ermetico però attenzione perché anche questo secondo registro poetico di Quasimodo del poeta più con i piedi per terra in realtà come avverrà anche per Montale non si ferma mai a rappresentare il quotidiano Quasimodo parte dall'osservazione del quotidiano per esempio il dolore umano provocato dal disastro della seconda guerra mondiale parte da questo per trascendere e farlo diventare rappresentativo dell'intera condizione esistenziale umana quando Quasimodo scrive la poesia alle fronde dei Salici nel 1943 al culmine della guerra mondiale cioè dopo l'armistizio che l'Italia fece con gli anglo-americani in seguito a cui ci fu l'occupazione nazista di Milano in cui Quasimodo viveva ecco l'occasione della poesia è storica per Quasimodo no lui prende riferimento dal quotidiano ma da questa occasione nasce una riflessione esistenziale scrive Quasimodo e come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore fra i morti abbandonati nelle piazze sull'erba dura di ghiaccio al lamento d'agnello dei fanciulli all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo alle fronde dei salici per voto anche le nostre cetre erano appese oscillavano lievi al triste vento e qui il poeta evoca certamente la situazione in cui l'Italia versava in quel settembre del 1943 quando i nazisti e i fascisti si resero protagonisti di rastrellamenti di deportazioni questo spettacolo orribile dei morti fucilati che per ordine dell'SS non potevano essere seppelliti perché dovevano restare sull'erba dura e fredda come ammonimento per la popolazione e noi vediamo rievocare dal poeta il pianto straziante simile al velato degli agnelli dei bambini rievocare l'urlo della madre disperata davanti al corpo del figlio martoriato e in quell'occasione i poeti italiani decisero di bloccare la loro produzione letteraria come protesta silenziosa quindi le cetre vengono appese al salice il poeta si ispira a un salmo della bibbia quando spiega che ora ai rami dei salici appesa che cosa cos'è la cetra la lira l'ispirazione poetica di tutti coloro che erano contro la guerra e che ora non possono fare altro che vederla oscillare questa loro ispirazione di pace al vento le cetre che oscillano al vento evocano un senso di inutilità della poesia quando arriva la guerra perché la guerra è una tragedia di fronte alla quale i poeti non hanno più voce per cantare è il mondo in cui viviamo nel quotidiano la guerra la guerra non è mai finita la guerra è qui in questo caos della quotidianità e i poeti che hanno assistito alla barbarie della guerra hanno appeso le cetra alle fronde dei salici come gli antichi profeti in segno di lutto ma anche di partecipazione per auspicare la fine di quegli orrori e quindi c'è silenzio ritorniamo a Krishnamurti l'importanza di zittire il pensiero la poesia recupera il suo vero senso il vero senso della poesia è quello di elevare l'uomo dalla quotidianità che è guerra a una dimensione superiore che è pace e la cetra è sempre la lira di Ermete è il canto di Orfeo che è disperato nell'evocare la condizione umana che sarà sempre di sofferenza per il senso di precarietà della vita per la perdita ma che è anche altro perché la condizione umana è anche amore è amicizia è sentimenti è solo quando arriva la barbarie quando si perdono appunto questi sentimenti che l'uomo finisce di essere uomo per diventare qualcosa di diverso forse è quello che sta diventando ai nostri giorni forse una macchina vedete acque e terre è il titolo della prima raccolta di Quasimodo e l'acqua che cos'è nella poesia di Quasimodo è l'elemento amniotico dove ci si perde si rimane liberi come nel mare della sua Sicilia ecco mentre la terra è il luogo dove l'essere umano è caduto a causa del suo peso esistenziale poi Quasimodo nel 1942 pubblicò una raccolta intitolata ed è subito sera che raccoglie sia le poesie di acqua e terre sia quelle che aveva pubblicato in obbo e sommerso e anche quelle che aveva pubblicato in Erato e Apollion e questa raccolta ed è subito sera ci sono quei celebri tre versi che costituiscono l'ultima strofa di una poesia molto più lunga che si intitola Solitudini quei tre famosi versi in cui sta tutta la poesia dell'ermetiso ognuno sta solo sul cuor della terra trafitto da un raggio di sole ed è subito sera la solitudine caratterizza l'esistenza dell'uomo l'esistenza che per Quasimodo trascorre in un baleno con la stessa rapidità con cui tramonta la luce del giordo quando poi arriva la sera cioè il tramonto della vita si avverte di non avere saputo cogliere il senso dell'esistenza perché il senso dell'esistenza è quello di un'occasione quindi vedete questo modo di intendere la poesia e l'ermetismo in tutte le epoche sia quando era poesia lirica sia quando lo chiamiamo ermetismo nel senso della poesia del novecento dei poeti ermetici una poesia pura non rivolta all'utile del vivere quotidiano non rivolta all'interesse individualistico non asservita alla politica al costume a qualche moralismo ecco questa poesia noi la troviamo soprattutto in eugenio montale cioè in quello che è stato il maggiore poeta del nostro novecento si bali bene anche montale non si sentiva un ermetico nel senso di appartenente a una data corrente di poeti in un'intervista televisiva disse che il termine usato da flora non ha alcun senso per designare una corrente poetica specifica perché la natura ermetica è propria della poesia moderna nella sua totalità quindi cerchiamo di chiarire una volta per tutte con questo pensiero di montale cosa si dovrebbe intendere per ermetismo la natura della poesia realmente moderna quella veramente grande e quella grande del novecento è quella che si ispira alla poesia antica e qui montale intende col termine poesia moderna la stessa cosa che intendeva Luzzi cioè la poesia simbolica che parla attraverso i simboli dell'anima che prende le sue mosse in Europa dalla straordinaria stagione del simbolismo francese sul montale molti fanno un'affermazione molto forte cioè che sia stato il più importante poeta italiano del novecento che è stato un secolo per l'Italia eccezionale per la fioritura di poeti di enorme elevatura Ungaretti Quasimodo Pasolini Sabba Caproni Luzzi Spaziani Testoli insomma ora secondo me ha poco senso dire chi sia stato il più grande tra tanti poeti perché le classifiche nella poesia nell'arte lasciano il tempo che trovano ma sicuramente Montale è stato giudicato dalla critica ma anche dal pubblico il più rappresentativo di tali poeti e basta ricordare quanti immagini tratte dall'opera di Montale si sono stampate nella memoria collettiva meriggiare pallido e assorto spesso il male di vivere ho incontrato gloria del disteso mezzogiorno non chiederci la parola che squadri da ogni lato ciò che non siamo ciò che non vogliamo quanti versi sono diventati famosi della produzione di Montale Montale ha vent'anni nel 1916 e scrive la poesia intitolata Meriggiare che è una poesia che parla della nostra esistenza attraverso questo muretto assolato ecco che è evocato da questa poesia coperto da cocci aguzzi di bottiglia diciamola questa poesia così famosa di Montale Meriggiare pallido e assorto presso il rovente muro d'orto ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli frusci di serpi nelle crepe del suolo o sulla veccia spiar le file di rosse formiche che ora si rompono e ora si intrecciano a sommo di minuscole biche osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi e andando nel sole che abbaglia sentire con triste meraviglia come tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che è in cima cocci aguzzi di bottiglia ecco quello che rende rappresentativo Montale fin dall'inizio fin dai suoi sordi è che nella sua poesia si presentano tutte le correnti della poesia moderna il crepuscolarismo il simbolismo c'è la depressione di dannunzio c'è sia il razionalismo che lo slancio metafisico c'è la spiritualità l'attesa del divino Montale vedete è figlio della borghesia commerciale genovese lui diventerà il ragionier Montale e non ha fatto studi classici come vi ho detto già per Quasimodo avrà una formazione letteraria tutta da autodidatta come avvenne anche per Sabba come avvenne per Penna e Montale raramente parlava di temi sociali di politica anche se non ci sono dubbi che lui avesse una chiara visione della società di cosa non andasse della crisi di valori l'operazione che Montale fa con Ossi di seppia da una parte è di grande abilità tecnica la poesia di Montale è originalissima è moderna è efficacissima con questo stile scarno tagliente che ti entra nell'anima senza cedere a nessun sentimentalismo ma d'altra parte è una poesia moderna nei contenuti in questo scavare dentro l'esistenza dell'uomo moderno nell'uomo del novecento in questo senso è una poesia moderna perché ritorna all'antico perché ritorna alla poesia lirica greca come per Quasimodo a fare più che da sfondo è il paesaggio ligure marino scarno essenziale non uno sfondo ma proprio parte integrante della poesia di Montale perché è adatto a trasmettere due immagini essenziali secondo me per descrivere la situazione del novecento l'immagine dell'aridità è quella dell'impotenza gli ossi di seppia sono quelle specie di conchiglie piatte che sono lo scheletro delle seppie che il mare deposita sulla spiaggia così comuni sulle spiagge liguri e quindi gli ossi di seppia rappresentano un rifiuto della vita ma che comunque per la loro leggerezza continuano a galleggiare come un simbolo non solo di disfacimento quindi di morte ma anche di resistenza di ostinazione a rimanere tra le onde seppure sballottati e inondati di acqua un'immagine potentissima e inquietante di noi uomini moderni rifiuti della vita alla deriva montale con i suoi versi scandaglia la vita dell'uomo contemporaneo di noi contemporanei il disturbo cronico esistenziale dell'uomo moderno il male di vivere che cos'è il male di vivere il male di vivere è essere vivi dice montale spesso il male di vivere ho incontrato era il rivo strozzato che gorgoglia era la cartocciarsi della foglia riarsa era il cavallo stramazzato bene non seppi fuori dal prodigio che schiude la divina indifferenza era la statua della sonnolenza del meriggio e la nuvola e il falco alto levato vedete sono gli anni del fascismo che impone una visione della vita roboante che incita all'azione al vitalismo addirittura sbruffone tracotante l'esatto opposto del carattere di montale i nostri di seppia il poeta si sente anonimo alienato in un mondo che non è suo e mostra il tentativo disperato di dare una forma qualche identità a questa vita e questo è il tema fondante dell'intera poesia montaliana fin da questa prima grande raccolta ma lo sarà per sempre il tema della vita strozzata naufragata che è rimasta più un progetto di vita che altro perché non è mai riuscita a svilupparsi la vita strozzata di tanti uomini e donne della nostra epoca che hanno vissuto senza avere pienamente vissuto vedete torniamo a Krishnamurti la vita dell'uomo moderno per montale può essere descritta solo in negativo ciò che non siamo ciò che non vogliamo in un'altra poesia famosa montale ci dice si rivolge al lettore non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe e al lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato ah l'uomo che se ne va sicuro agli altri a se stesso amico e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro non domandarci la formula che mondi possa aprirti si qualche storta sillaba è secca come un ramo codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo ciò che non vogliamo vedete non domandarci formule anche qui il pensiero torna a Krishnamurti di cui abbiamo parlato recentemente il poeta vero non è mai vate non è mai duce non ha formule e quindi è inutile chiedergli la parola che squadri da ogni lato vedete i nostri di seppia è fondamentale vi dicevo il paesaggio ligure quello delle cinque terre di quella monte rosso dove la famiglia di montale aveva una casa e montale da giovane ci passava tutte le estati cioè un paesaggio arido scabbro tormentato dalla canicola adatto a rappresentare un'anima oppressa che tende ad annullarsi sotto il peso di una vita insostenibile e quindi proprio nella poesia che abbiamo letto prima meriggiare montale descrive questo paesaggio e poi ci dà il commento esistenziale poi lascerà la liguria montale nel 27 si trasferirà a Firenze come segretario dell'autore Bemporad dell'editore Bemporad e qui conoscerà Drusilla Tansi che è una donna già sposata ma diventerà la sua compagna e poi la sposerà in una relazione che durerà oltre 30 anni fino alla morte di Drusilla poi abbastanza sorpresa lui che era privo della tessera del partito fascista venne nominato direttore del prestigioso gabinetto VSE che era una biblioteca importante punto d'incontro tra letterati italiani ed europei e lo dirigerà fino al 39 quando sarà rimosso proprio perché non fascista e come vi dicevo prima per Quasimodo a Firenze in quegli anni di regime fascista c'era una collaborazione di grandi autori alla rivista letteraria solaria una rivista in cui si parlava di tanti argomenti di letteratura straniera evitando accuratamente la politica il nome solaria deriva dalla città del sole di Campanella quindi quella rivista era un tentativo di costituire un'apertura della cultura italiana anche al panorama internazionale in un'epoca in cui il regime invece imponeva una sorta di chiusura ecco tanti intellettuali tra cui Montale aderirono a questo tentativo di fare una resistenza a questo clima di aridità culturale nel 39 pubblicò Montale la sua seconda raccolta Le Occasioni questa è una raccolta dedicata a una donna che non è però la sua compagna ufficiale e invece un'americana ebrea conosciuta al gabinetto di essè Irma Brandeis e le Occasioni sono un canzoniere d'amore sono una raccolta di poesie in cui emergono varie figure femminili per esempio c'è la sorella Marianna c'è Arletta Annetta che è una donna che conobbe a Monterosso quando Montale era giovanissimo ma sicuramente la triade di donne più importanti è formata da da sua moglie che lui chiama affettuosamente la mosca per la miopia molto forte che la moglie aveva poi Clizia che sarebbe appunto Irma Brandeis e la Volpe la poetessa Maria Luisa Spaziani con cui ebbe una relazione ancora successivamente Montale e quindi nel passare da Ossi di Seppi alle Occasioni Montale introduce questi colloqui con questi personaggi femminili che hanno una connotazione quasi direi salvifica stilnovistica la donna come occasione di salvezza da quella situazione di aridità e di impotenza descritti in Ossi di Seppi e quindi vedete noi vediamo la volontà del poeta di cercare in questo mondo moderno dove tutto sembra bruciare nel fuoco dell'inverno ecco una ventata di paradiso un assoluto che rimanda a una tradizione di poesia antica che anche nel medioevo dallo stil novo fino a Petrarca si era espressa non solo nella poesia livica greca e che Montale recupera in senso modernista quindi il tema ricorrente nelle occasioni è quello dell'assenza della donna Clizia che poi è Irma Brandeis è un nome che Montale riprende dalla mitologia greca Clizia è una fanciulla innamorata di Apollo che non staccava mai gli occhi da Apollo finché fu trasformata in girasole e quindi è un nome schermo Irma Brandeis era una giovane studentessa ebrea americana che Montale conobbe a Firenze nel 1933 con la quale ebbe una relazione che durerà qualche anno fino a quando questa donna dovette rientrare negli Stati Uniti a causa delle leggi razziali e in una poesia dedicata a Irma Brandeis lui inserisce questo elemento dell'assenza di questa donna amata la poesia si intitola non recidere forbice quel volto non tagliare forbice l'immagine di quel viso di donna che ormai è solo nella memoria che si svuota non avvolgere dice Montale nella solita nebbia della dimenticanza anche il suo viso che io ricordo mentre l'ascoltavo quindi il tema del ricordo tanto caro alla poesia ermetica riporta l'impossibilità angosciante di conservare le esperienze anche quelle felici quindi il viso della donna sembra protendersi ancora in ascolto verso le parole del poeta ma c'è una nebbia la nebbia dell'oblio che è destinato ad avvolgerlo anche se questo volto è grande perché domina nella mente del poeta quindi vedete che qui emergono i simboli la forbice che è pregata di non tagliare via il volto della donna è questo che viene chiamato un correlativo oggettivo la forbice è un oggetto che richiama però un'esperienza il taglio del volto della donna quindi solo la donna secondo Montale è capace di far uscire l'anima del poeta ma la donna cos'è? Elohim dei taoisti è la capacità di contenere la volontà di potenza e quindi l'anima del poeta intrappolata nell'ego può uscire da quella trappola solo attraverso la donna può uscire dal torpore esistenziale quindi si va ben al di là del romanzetto d'amore autobiografico no? non è che qui Montale riporta la sua autobiografia con queste figure di donne che hanno animato la sua vita ma al di là di tutto questi amori impossibili sono la porta di salvezza da una condizione di vita arida squallida in cui vive l'uomo moderno il borghese le occasioni sono un libro sublime fatemelo proprio dire il libro di un poeta ormai maturo che è passato da uno scenario naturalistico di osti di seppia di rappresentazione dell'esistenza a uno scenario che adesso è sociale e culturale e si popola di personaggi di vita umana e lo fa spremendo spremendo l'essenza dell'esistenza e quindi qui la condizione esistenziale montale la fa come ho detto prima emergere da certi oggetti che funzionano come amuleti e simboli è una tecnica che lui riprende da Elliot il poeta inglese che inventò appunto il correlativo oggettivo nel 39 come vi ho detto montale lascia firenze si trasferisce a milano dove in quello stesso anno quegli stessi anni c'era anche quasimodo e dove lui scriverà a montale la terza raccolta cioè la bufera che è una raccolta difficile uno stile alto tendente al sublime all'oscurità propria dell'ermetismo anche qui troviamo i dialoghi con le figure femminili si affaccia ancora a Clizia è una presenza costante la moglie la mosca che rappresenta la quotidianità e poi c'è una donna misteriosa la volpe che è la poetessa Maria Luisa Spaziani che rappresenta il segreto che l'uomo custodisce dentro una parte oscura di cui non si è neppure cosciente montale scriverà nella poesia serenata indiana scriverà questi versi il polipo che insinua tentacoli d'inchiostro tra gli scogli può servirsi di te tu gli appartieni e non lo sai sei lui ti crevi te il polipo che insinua tentacoli d'inchiostro e qui emerge il tema tanto caro alla psicanalisi di un inconscio di un'ombra di junghiana memoria che è la nostra essenza noi siamo esso l'ess di Freud e invece ci crediamo me il mua di Lacan cioè l'ego c'è diciamo in montale con la bufera una presa di coscienza che l'esistenza umana fa i conti col quotidiano mentre ha dietro un'anima che si situa al di là del quotidiano quindi anche quando il quotidiano è terribile è tragico ispira per esempio al poeta i versi terribili della primavera hitleriana una poesia in cui montale si ispira alla visita di hitler a firenze nel maggio del 38 in cui montale parla di falene impazzite che accompagnano il dittatore descrive una città gelata da un presagio di morte hitler e mussolini stanno andando a teatro per assistere a una rappresentazione e poi l'arrivo di clizia nella poesia un angelo mandato da dio come beatrice per dante unica che con la virtù dell'amore può purificare il mondo da questa grande peste che è la guerra quindi montale coglie con la sua opera la vera contraddizione dell'esistenza che è la contraddizione della vita che l'uomo sembra sprecare per annientare questa vita con la distruzione con la violenza per precipitare nell'apatia sentimentale nella meschinità nell'aridità questa contraddizione montale la coglie proponendo spesso come soluzione tecnica la figura dell'ossimoro in cui si accostano termini di significato opposto vicinanza da lontano presenza nell'assenza morte vitale ecco poi nel 48 dal 48 in poi ci sarà un altro montale che emergerà verrà assunto al corriere della sera dove dividerà per molti anni la stanza con indro montanelli e questo sarà quello che montale definì lui stesso il suo secondo mestiere cominciò a scrivere più di 100 articoli all'anno e montale diventò famoso conosciuto un personaggio pubblico e quindi montale dimostrò di essere il poeta che ha sempre saputo meglio cantare l'esistenza dell'uomo moderno andando poi alla fine a scontrarsi con la realtà sociale di questa esistenza riscontrando con la poesia quello che la modernità oggi rifiuta cioè l'essenzialità la rinuncia ad ogni retorica al vuoto sentimentalismo la sincerità montale ha saputo cogliere questa contraddizione e tant'è vero che tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60 montale non scrive più poesie perché lui inizia a considerare non più praticabile l'uso di una poesia pura quella degli irci greci nell'attuale società moderna inizia a sentire la necessità di introdurre altri registri l'ironia la satira perché la poesia ecco qua il punto conclusivo di questa conferenza la poesia nella modernità non ha più lo stesso ruolo che aveva nell'antichità non ha più lo stesso pubblico montale comprende che il mondo moderno è governato ormai dalle ideologie che è la stessa cosa che dire dalla falsità lui parla della necessità di non allinearsi di uscire dal serraglio usa proprio questa espressione per dirla alla francese non essere engager ingaggiato dal sistema montale critica i critici letterari li sfotte in tutta la sua ultima parte poetica lui sembra volere bruciare tutta la sua precedente esperienza passa da una poesia alta a una poesia colloquiale semplice non è più il poeta aquila che guarda la vita dall'alto ma un poeta topo che la guarda dal basso e la visione di montale della società di oggi è completamente negativa di un pessimismo che potremmo definire cosmico col termine leopardiano perché sembra che l'ultimo montale si senta affogato nella cultura del nulla moderna che impedisce l'espressione alta quella che fa elevare l'animo umano oltre il prosaico il volgare montale come se consegnasse al mondo moderno l'ultimo suo messaggio inquietante la cultura moderna ha ucciso anche la possibilità stessa di fare cultura inutile opporsi io credo che in questa riflessione si possa cogliere un elemento davvero importante della cultura contemporanea la perdita della poesia propriamente detta la poesia che veniva portata a spasso da ermete dalla sapienza della natura da colui che trasmetteva la voce degli dei ermete che inventa la lira da cui viene la musica che accompagna la poesia che diventa canto la poesia la lira che poi passa da pollo e da polla d'orfeo la cui testa tagliata continuerà a cantare anche dopo morto questo è il mistero della poesia questo è il mistero di ermete il mistero che questa società non comprende più chiusa lei si chiusa nell'individualismo utilitarista nella folle smania per la produzione e il consumo in un ego ipertrofico che sogna di ingurgitare il più possibile senza gustare nulla senza vivere una società che tra luci velocità dispositivi intelligenze sempre più artificiali si avvia a diventare una società di macchine di robot cioè una società di esseri biologici smart come ci piace dire oggi cioè abili a fare bene e velocemente tante cose ma a tutti gli effetti morti morti ambulanti come lo sono tutte le macchine come lo è anche chat gpt vorrei concludere ecco così la conferenza di stasera e dandovi appuntamento alla prossima augurarvi una buona serata a tutti